Lucia Arena, un appuntamento, quello di oggi, San Valentino, anche per parlare un po' delle stelle. Sicuramente, è un bellissimo avvenimento, un'occasione da non perdere. Per quello che si possa dire, quando si parla d'amore bisogna potenziare. E che ne dici se parliamo un po' di segni zodiacali? Del resto, amore, romanticismo, stelle, sole e luna fanno parte un po' anche di questi momenti stellari. Allora, Ariete. Cari amici dell'Ariete, oggi è una giornata particolare. Dovete tenere a freno la vostra gelosia. Se avete intenzione di festeggiare il vostro San Valentino, apparite almeno in maniera più dolce. Certamente la potenzialità delle vostre caratteristiche marziane, cioè del pianeta Marte, portano a un San Valentino di grande eros e passione. Toro. Per il Toro, beh, io non ho da dire nulla. Carta bianca, un cielo fantastico. Quindi, cari amici del Toro, semplicemente questo. Organizzatevi il vostro San Valentino. Gemelli. Un'occasione più unica che rara. Cari amici dei gemelli, perché è arrivato il momento di dover pronunciarsi. È arrivato il momento di poter dire finalmente a una persona che vive a genio quelli che sono i vostri sentimenti. Sfruttate l'occasione di San Valentino. Cancro. Anche per il segno del cancro, carissime amiche mia, sono momenti importanti, perché è pur vero che sono conflittuali, sono piuttosto chiusi nel loro genere sentimentale, nel dimostrare gli affetti, però il San Valentino è per loro. Cielo fantastico. Venere amica, fatevi, fatevi avanti anche voi. È anche il momento di ricucire o recuperare un sentimento importante. Leone. Io direi che più che l'amore inteso come sentimento, per il Leone si parlerà di amore fisico. Beh, anche per voi, se volete festeggiare così il San Valentino, va benissimo, basta che lo fate. Vergine. Per voi l'occasione di dover recuperare con un partner, perché nell'ultimo periodo siete stati un po' troppo freddini. Quindi cominciate ad organizzarvi sin da subito che sia accogliente il vostro San Valentino e soprattutto scioglietevi un po'. Bilancia. È il momento di rinnamorarsi. È il momento di pensare all'amore. Partite da oggi. San Valentino vi porterà fortuna. Scorpione. Beh, lo Scorpione avrà un'esplosione passionale. Beh, ha vissuto nell'ultimo periodo una storia appena nata. E beh, il San Valentino sarà luce di candela, una bella cenetta, ma poi tanto e tanto Eros. Sagittario. Non ve ne dovranno parlare oggi di San Valentino. Per voi il San Valentino, se volete, è sempre o mai. Però è pur vero che ci sono dei momenti in cui magari queste occasioni servono per recuperare. Fate mente locale. E Capricorno. Cari Capricorno, per voi il cielo è fantastico perché avete per il primo anno Saturno nel segno. Quindi è il momento di consolidare una storia, di fare una promessa. E soprattutto, chissà, anche una cicogna in arrivo potrebbe essere messa in programma. Forse ancora non lo sapete? Acquario. Marte in Sagittario vi spinge a essere focosi, a dimostrare quanto è più possibile quelle che sono le vostre valenze sentimentali. Anche le parole giuste, al momento giusto, vedrete che oggi, se vorrete, usciranno tutte. E sarà il caso di poter fare anche un passo importante. Sarà anche il caso di dover magari portare per manino una persona che avete anche voi visto da tempo e non avete la forza o il coraggio di parlare. L'occasione è giusta. Magari così, tra celate spoglie. E per finire Pesci, il massimo, un cielo fantastico, anche Nettuno, in ottimo aspetto, Otto e Giove, Venere e la maestra dell'amore. Beh, per voi un San Valentino fantastico, cari Pesciolini. Cercate di essere un po' più svegli però e guardatevi bene intorno.